Il gioco della verità, dai, stasera. Cioè, è chiaro che non lo votate perché voi votate Porta Italia, ma vi piace, vi convince, è una novità o no? Lasciamogli dire a lui è 18 anni. Sì, Matteo Renzi per me rappresenta il futuro di un'Italia migliore, cioè un'Italia che ci può credere ancora. Perché? Diciamocelo chiaramente. Lui ha avuto il coraggio, ha avuto il coraggio nel suo partito di sfidare una classe dirigente che per vent'anni ha fallito. Noi non abbiamo lo stesso problema, perché nel nostro partito c'è una classe dirigente che ha fatto cose buone. Silvio Berlusconi ha fatto un miracolo italiano, però anche noi abbiamo una classe dirigente che è ora che passi la mano, che passi i testimoni. Noi giovani dobbiamo essere in campo per riuscire a cambiare.